ciao a tutti e bentornati dove era gondor il canale youtube dedicato al signore di anelli lcg proviamo a terminare il ciclo di casa doom avventurandoci in shadow and flame prima di iniziare se vi piace il canale se vi è piaciuto questo ciclo scrivete uno dei commenti seguite il canale attivate le notifiche così siete sempre aggiornati allora esistono varie modalità per approcciare questa quest diciamo che la cosa più semplice forse utilizzare il nuovo erond con vilia tuttavia volevo provare a essere tematico e avventurarmi contro il barro con un mazzo nani vediamo se può aver senso dobbiamo aggiungere il flagelo di durin all'area di allestimento che regenera il 3 indistruttibile i giocatori non possono giocare attachment sul durin spain il durin spain non può lasciare l'area dell'estimento è considerato di essere ingaggiato con ogni giocatore la cui threat è uno o più e attacca ognuno di questi giocatori durante la fase di combattimento quindi otterrei la mano che abbiamo la terrei che il doppio resource full è interessante e possiamo andare in realtà giocarlo subito cioè andiamo a giocare un resource un vassal of the wind lord anche se in realtà adesso con ora come ora non ci serve quindi potremmo fare potremmo fare così con bifur andiamo a giocare in a mart e con erano andiamo subito a capire cosa ci aspetta è un goblin dobbiamo fare un danno un eroe che controlliamo dopo che un carattere lascia il gioco shuffle ok va bene va bene quindi in realtà potremmo giocare con un po più cauti e giocare un resource full su dain e un resource full su bifur a questo punto andiamo in quest probabilmente non faremo alcun progresso in realtà riveliamo infatti questo ranging goblin non mettiamo prograsci scusate devo rivelare x meno uno carte quindi non nella mia threat scendeva a zero quindi ho parto da zero quindi riduci le altre di ogni giocatore a zero rivele x carton amazon contro dove x e 1 meno numero di giocatori aggiungere la re di allestimento andavo in quest 6 contro sei non succede niente prima della fa dopo la fase d'impresa prima della fase di viaggio gioco we are not idle esaurisco x dwarf heroes quindi esaurerò dei ne per dare una risorsa a diamo la pagina lì e pescare una carta ok che è carino questo il team li head ok quindi andiamo nel turno successivo a questo punto in realtà sia dain che bifur ottengono una risorsa in più per cui mettiamogliela che ottengono una risorsa in più round resource che ottengono una risorsa in più ok allora ragioniamo un po con uno di dain giochiamo il team di hide rivela le cinque carte del tuo mazzo e metti un alleato rivelato in gioco se possibile però prima di farlo andiamo a vedere con in amarte che cosa ci aspetta ok non un granché un po fastidiosa però va bene è così quindi andiamo a guardare nelle top 5 mettiamo un alleato urca in realtà andiamo a mettere solo lo snowboard scout perché il minatore degli iron hill e lo voglio proprio per togliere quella treceri la quindi giochiamo lo snowboard scout purtroppo non ci sono ho fatto keep order no quindi shuffle non ci sono luoghi e quindi facciamo così poi con questi due giocheremo l'erebor hammersmith e con una di gimme giocheremo il vassal of the will lord ok a questo punto andiamo in quest con bifur ma anche l'erebor hammersmith così andiamo a mettere su due progress in realtà quindi riveliamo questa carta incontro questa carta incontro andrà su da in durante la fase di combattimento il barro mi attacca io parerò con lo snowboard scout non c'è effetto ombra anzi c'è la counter spell che se ne va allora mettevo su due progress la counter spell se ne va lo snowboard scout se ne va e quindi il ranging goblin che quando rivelata faceva un danno un personaggio che era chiaramente ghimli per potenziarci l'attacco dopo un personaggio lascia il gioco shuffle ranging goblin and the top card incontro di scarpa il back into the encounter deck quindi personaggio ha lasciato il gioco dobbiamo rimischiare questo e questo e fare shuffle ok a questo punto andiamo nel turno successivo qui è abbastanza fondamentale avere un motore di pesca perché devo riuscire poi a un punto a come si dice a dare in pasto sempre costantemente nani a al flagello di durin sostanzialmente va bene la spada ci dà fastidio fino a un certo punto però questo significa che possiamo andare in quest fondamentalmente con tutti questi quindi cercare di progredire il più possibile cosa che tra l'altro facciamo in realtà progrediamo quindi riveliamo una carta e la spada si attacca al barro che avrà più tre di attacco mettiamo sette progress che sono esattamente quelli che ci servono ad arrivare qua quindi qui che cosa succede se almeno un eroe committato da questo questo turno piazza 4 progredito che su the rear guard ok bypassing any active location a dire dove queste face ok quindi un certo punto il barro mi attacca io andrò a parare col vassal of the will lord c'è un effetto ombra che dice nemico attaccante prende più uno il nuovo vassal of the will lord viene distrutto e quindi possiamo andare al turno successivo ok è un peccato che qua la veteran axand non riesco a a giocarla allora diciamo che l'erebo rammer smith si sacrificherà questo turno quindi andiamo con in amarte andiamo a vedere cosa c'è ok va bene non ci interessa in realtà prenderà attaccherà 50 miliardi con chi andremo a parare con l'asciere veterano a questo punto per cui andiamo con ghimli bifur l'erebo rammer smith e anche l'erebo record keeper per cui riveliamo una carta incontro che questo quando rivelata il duris bain prende più tre fino alla fine del turno ma diciamo non ci interessa vinciamo di 6 quindi ne mettiamo 6 però se almeno un eroe è stato comitato a quest questo round piazza 4 progress tokens on the rear guard bypassing an active location di edno del quest face quindi alla fine della quest phase va a 10 ok ci siamo a questo punto durante la fase di combattimento io comincio a tenermi la finta quindi gioco la finta e quindi lui non attacca e questa qui di fatto a voi fatto ok andiamo nel turno successivo questo è ottimo non ho le risorse in questo momento andiamo a vedere cosa ci aspetta con in amarte devo scartare un alleato che controllo ok facciamo i conti io ne metterò 4 12 le mancano 2 quindi devo mettere 6 in realtà quindi in realtà se noi facciamo così ne sto mettendo 2 che è quello che basta però poi dimmi muoiono due alleati ben due alleati perché uno sarà quello che attacca e un altro va bene troppo così dovremo toglierci in amarte non toglierci in amarte per forza ok quindi andiamo in quest no tra l'altro dunque mi sa che quando cambio questo stage il barro fa un ulteriore attacco quindi senza la legacy of during è molto difficile riuscire a fare questa missione quindi devo scartare un alleato e scarto l'airboard record keeper vinciamo di due alla fine della fase di quest ne mettiamo su quattro andiamo al prossimo solo che il prossimo che è l'ultimo ci dice quando rivelata dunes bain fa un attacco immediato contro il primo giocatore quindi fa un attacco immediato lo pariamo con l'hash veterano ci fa scartare tutti gli attacchi che controlliamo vabbè è un problema ma non drammatico anche se appunto non la vedo bene in questo momento la quest questo qui è stato sconfitto dobbiamo rendere il dark pit nell'area di allestimento lo mettiamo come luogo attivo ci viaggiamo questo ci fa fare un'azione di refresh che dice esaurisci x character che controlli per scartare la top x card del tuo mazzo se le discard card hanno un costo combinato più alto che i punti rimanenti del durings bain scarta durings bain dal gioco ok il problema che adesso andiamo nella fase di combattimento e sostanzialmente dobbiamo dare un'altra carta un altro attacco parerà l'ereo brammer smith non c'è effetto ombra l'ereo monarmo smith è sconfitto viaggiavo io comunque verso dark pit entriamo nel turno successivo il problema che se anche sono arrivato a questo turno io non ho modo in realtà di poter fare i danni fare i danni a sto maledetto barroga quindi giochiamo il veteran axand e anche il long bird io andrei solo con b fur riveliamo una carta incontro che è il ranging goblin che deve fare un danno a un personaggio che controlla ed è ghimli ok quindi non metto progress a mina mia minaccia sale di 123 ok durante la fase di combattimento il barroga attacca e io lo paro con enamart purtroppo non c'è effetto ombra enamart rimerson viene sconfitto il ranging gomlin viene rimischiato insieme al watch full eyes e io attacco attaccherò con 4 5 8 9 10 10 meno 3 fa 7 comunque schifo non fa potevo quasi anche risparmiarmi b fur senza andare con b fur vediamo di provare a farlo prossimo giro quindi alla fine del round tra l'altro il barro perché io faccio 2 4 5 8 9 10 10 meno 3 fa 7 quindi si rigenera 3 arriva a 4 e durante la fase di refresh potrei tappare 3 eroi ma dovrei fare 23 di costo il che è impossibile quindi non lo facciamo ok lo snowboard scout ci piace in realtà ci piace abbastanza lo snowboard scout quindi giochiamo lo snowboard scout non andiamo in quest con nessuno riveliamo una carta che è l'orc drummer quando è nell'area dell'estimento ogni nemico prende più uno dove x è il numero di giocatori nel gioco quindi perdo di 7 per cui la mia minaccia va a 16 in realtà in questo momento ok il barrog mi attacca paro con lo snowboard scout non c'è effetto ombro snowboard scout viene piallato proprio poi attacco con ghimli che attacca abbiamo detto facciamo per comodità 245 segno 5 così me lo ricordo 5 b fur 6 7 8 9 12 12 meno 3 a 9 per cui va 11 ok ma 11 peccato non riuscire ad avere le risorse per questo ok quindi fase di refresh non faccio niente perché non riesco a fargli 16 danni e quindi sbarro sicura però lentamente lo stiamo mandando allora rune di diron peschiamo due scartiamo una scartiamo un resource full giochiamo un 23 giochiamo questo ok di nuovo non andiamo in quest con nessuno riveliamo una carta incontro che la fieri sword che in realtà se ne va sostanzialmente si è confermato che se ne va quindi io perdo diciamo di nuovo di 7 vado a 24 ok il durings bane mi attacca e io vado paro con un long bear elder non c'è effetto ombra il long bear elder viene piallato però poi io attacco con ghimli con b fur con altro long bear elder e con il veteran axand quindi facciamo i conti perché qua stiamo arrivando a momento topico chi mi attacca 5 b fur attacca per semplicità facciamo a 22 3 per facciamo 5 più 38 più 2 10 più 2 12 12 3 fa 9 quindi 8 più 9 fa 17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 17 allora gliene mancano gliene mancano 10 10 non è impossibile ma mi darei ancora un turno se la gioca si ce la giochiamo tutta qua e ce la giochiamo tutta qua ok allora alla fine sostanzialmente che cosa succede che il regenerate che troviamo qui in the watcher in the water di cnn mage il damage from itself e quattro le specifiche amount each round this take place immediatly following the passing of the first player token during the refresh phase and of course before player action quindi prima delle player action quindi lui sicura 3 di fatto 1 2 3 e io dovrei scartare fare 13 che è impossibile per cui niente andiamo nel turno successivo allora il miners of the iron hills ci piace molto perché entra in gioco il miners of the iron hills e scartiamo una condizione che è questa poi paghiamo 3 per giocare l'airable battle master che sostanzialmente ha più 1 per ogni altro dwarf ally che controlliamo quindi facciamo un po di conti diciamo che io poi attacco il barroco con 5 6 7 10 12 supponiamo di avere un altro più 2 più 4 16 16 meno 3 fa 3 quindi ci arriva 27 per cui poi è tra virgolette matematico perché va 24 e quindi non sarebbe da non rischiare per cui ancora una volta non mandiamo nessuno in quest ci prendiamo un rischio ma facciamolo c'è un goblin swarman che ci dà un po fastidio in realtà comunque perdiamo di 8 andiamo a 25 più 8 fa 33 ok allora facciamo un po di conti facciamo un po di conti facciamo un po di conti ecco era proprio quello che non volevo questo qui era quello che non volevo perché undefended non posso prenderlo perché poi attacca 5 e ci perdiamo un eroe potremmo parlare con bifur l'unica parola con bifur perdiamo un 2 alla forza di attacco e ce la giochiamo ce la giochiamo così quindi ci ingaggia il goblin swarman diamo prima la carta ombra goblin swarman e poi la carta ombra ah tra l'altro perdevo di uno in più per via dell'orca drummer ok poi diamo la carta ombra goblin swarman e lo pariamo con bifur 4 meno 2 fa 2 bene poi diamo la carta ombra al barro che lo pariamo col miners of the iron hills perché lui attacca 3 più 1 4 meno 2 3 miners of the iron hills c'è una carta ombra non ha effetto quindi il miners of the iron hills se ne va a questo punto facciamo un po' di conti lui prende più 1 per ogni altro dwarf ally quindi lo attacca 1 no lo attacca 1 di base 2 3 per il dwarf ally e 4 per deyn a questo punto se noi attacchiamo il barrog facciamo un po' di conti io farei 5 8 10 14 14 meno 3 fa 11 lo mandiamo a 25 sicura di 3 va a 22 e poi dobbiamo rivelare almeno un costo 5 in 3 carte difficile però ce la giochiamo proviamo così ok quindi lasciamo qui il goblin swarman andiamo ad attaccare con tutti abbiamo detto che facciamo 4 6 9 14 14 meno 3 fa 11 per cui lui va a 25 ok andiamo nella fase di refresh quindi shift più r il barroco si cura di 3 io a questo punto esaurisco massimo 3 characters per scartare la top x card del mazzo incontri se le discarded card hanno un costo combinato più alto di 5 dobbiamo avere almeno 6 difficile però ci proviamo facciamo tac 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 e scartiamo 3 carte finger crossed 1 3 va bene 2 3 è fatta e Gandalf addirittura 11 quindi che cosa succede che in realtà il come si dice il barroco è sconfitto quindi viene scartato boom ok il barroco viene scartato allora sostanzialmente qui c'è questa stortura strana che c'è questo 1 che dice i giocatori non possono vincere il gioco finché il il Durance Bane è in gioco se il Durance Bane lascia il gioco dagli effetti della Dark Pit i giocatori hanno perso il gioco quindi in realtà non si capisce esattamente se questa cosa deve se questo 1 deve essere messo oppure no quindi diciamo che noi andiamo avanti e vediamo che cosa succede allora noi paghiamo 4 per giocare la Timely Hide diciamo che un Gandalf in questo momento non ci farebbe così schifo mamma mia che tristezza Enamart Close and Shuffle allora a questo punto noi se la logica è continuare dobbiamo mettere su un sacco di progress come facciamo usiamo Bifur e Gimli per andare per andare in in quest e potremmo vedere cosa ci succede con Enamart un altro di questi ci fa malissimo un altro di questi ci fa malissimo quindi facciamo così andiamo solo con Bifur ok quindi riveliamo il Goblin Swormand questo Goblin Swormand in realtà prende più 1 quindi noi perdiamo di 1 andiamo a 36 non mettiamo progress ci ingaggiamo opzionalmente l'Orc Drummer e il Goblin Swormand ci ingaggia ok diamo le carte ombra allora l'Orc Drummer lo prendiamo in contrastato non c'è effetto ombra facciamo un danno a Dane questo Goblin Swormand lo parliamo con Dane c'è un effetto ombra che da 1 più 3 6 meno 3 fa 3 Urca 6 meno 3 fa 3 1 2 3 e quindi Dane rimane vivo e il Goblin Swormand lo pariamo con Gimli perché non possiamo prendercelo in contrastato 6 contro 2 fa 4 Gimli purtroppo ci viene sconfitto mamma mia che brutti effetti ombra questi a questo punto andiamo nel turno successivo chiaramente qui o la vinciamo ora o non la vinciamo più per cui facciamo i conti B4 questo questo stiamo mettendo 8 progress non è impossibile non abbiamo però poi per giocarla finta quindi poi ci massacrerà il turno dopo sì dobbiamo tenerci Enamart per forza quindi riveliamo una carta che è le radici della montagna mettiamo 7 progress sono 7 progress qua ok andiamo nel nel la fase dei nemici allora allora l'orc drummer lo pariamo con Enamart vabbè Enamart viene sfangato il goblin swarman lo prendiamo in contrastato su B4 e B4 se ne va e invece l'altro goblin swarman lo pariamo con Dain non c'è effetto ombra quindi Dain sopravvive a questo punto l'unica possibilità è riuscire a mettere su tutti i progress token per mettere uno cosa molto difficile rune di Dairon vediamo se riusciamo ad avere un Gandalf no che pena dobbiamo scartare una carta scartiamo la finta mettiamo in gioco lo snowboard scout e mettiamo un progress qui a questo punto all in ma non sarà estremamente difficile vediamo questa qua cosa che dice dopo che Long Bear Elder committe the quest lui che è di top card vediamo se in conto se quella card è una location piazza un progress sulla current quest otherwise Long Bear prende meno uno no non lo facciamo l'unica possibilità è beccare una treceri se becchiamo una treceri riusciamo se no abbiamo perso no quindi mettiamo un unico progress qui e come si dice basta abbiamo finito abbiamo finito per forza perché l'Orc Drummer mi fa comunque un attacco in contrastato e quindi Dain viene sconfitto ora ora diciamo che non c'è proprio possibilità perché questo mi ingaggia qui si danno tutte le carte ombra e quindi perdiamo completamente tutti perché non abbiamo roba per dare impasto e quindi niente purtroppo non siamo riusciti a liberare The Last Lord of Moria nonostante abbiamo fatto fuori il barro diciamo che l'errore forse che c'è stato è stato quello che siccome il Dark Pit a zero non valeva la pena prima cercare di mettere il progress e poi di viaggiarci però diciamo la partita siccome è stata molto bella proverò a rifarla ma questa registrazione la teniamo perché siamo arrivati veramente a un passo da fuggire da Moria spero che vi sia piaciuta alla prossima